Carissimi, buon pomeriggio a tutti. Siamo giunti all'ultimo giorno di quest'anno molto particolare. Mi corre l'obbligo di dovervi ringraziare tutti quanti per avermi scelto, per aver apprezzato i miei prodotti e con questa piccola rappresentanza di prelibatezze vi auguro un felice fine dell'anno ma soprattutto un fantastico anno nuovo decisamente molto più sereno. Buon anno a tutti!